Vi porto dentro quello che secondo me è lo stadio più bello della Serie C. Sto parlando del Dino Manuzzi di Cesena. Ho avuto la possibilità di visitarlo grazie alla società bianconera. Sono stato dentro gli spogliatoi, che sono a dir poco fantastici, e che ovviamente erano pieni delle maglie dei giocatori, ma anche io, grazie al Cesena, ho avuto la mia maglietta. Ma questa non è stata l'unica sorpresa, perché una volta arrivato in tribuna per godermi la partita, ho notato che c'era il posto riservato per me. Anche se prima di sedermi sono andato a fare una visita in Hospitality, dove ho mangiato qualcosina con un panorama mozzafiato. E poi, una volta tornato nel mio posto in tribuna, mi sono goduto la partita. Io voglio ringraziare il Cesena per l'accoglienza ricevuta e per questa opportunità, perché finalmente sono riuscito a vedere uno stadio che mi ha incuriosito da sempre. E credo che sia davvero bellissimo. Bello alla pari dei suoi tifosi, perché la curva, anche sotto il diluvio, non ha mai smesso di cantare. E poi festeggiare la vittoria, scoprendo se uno dei propri calciatori avrà un bambino o una bambina, ha reso tutto più magico. Ed è una cosa che ho visto solo ed esclusivamente a Cesena.